Una donna di 94 anni alla guida di un'auto è finita contro la recensione di una casa a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. La donna è morta. Secondo le prime ipotesi, la conducente potrebbe essere stata colta da un malore mentre stava guidando e per questo potrebbe essere finita fuori strada. Nell'urto contro la ringhiera, l'auto ha divelto anche alcuni contatori del gas. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal veicolo. L'anziana è stata presa in cura e rianimata dal personale sanitario del SUEM. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha però dovuto dichiarare la morte. I pompieri hanno tamponato la perdita di gas e sul posto sono intervenuti anche i tecnici della rete del gas per la riparazione delle tubature con l'assistenza dei vigili del fuoco. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.